E' sodio stagionale tra il pubblico amico per la San Maurese di Mr. Protti che ospita la Correggese. 4-3-3 scelto da Protti contro i 3-4-2-1 di Mr. Graziani. Abita la gara il signor Cravotta della sezione di Città di Castello. La gara vede subito la San Maurese partire sull'acceleratore da cross di Scarponi. Giannini cerca il tiro a giro ma viene fuori, una conclusione da dimenticare. Ancora Scarponi protagonista, questa volta di Traversone, viene raccolto al numero 7 Gaiola, il quale chiama al tiro Merlonghi, l'ex cattolica mette a lato. Sull'altro versante la Correggese viene fuori con due titattivi da parte del suo numero 11 Damiano. In tutti e due casi la mira è da rivedere, nel primo fa tutto da solo, nel secondo, cogliendo una sponda di testa di Lucati, non riesce a fare di meglio. La San Maurese ringrazia facendo prima le prove del gol con questo tiro velenoso di Bonandi, poi su Traversone di Scarponi e Giannini di infilare, trovando il gol che sblocca una partita fino a quel momento molto equilibrata. Nella ripresa Capalbio Simoncelli, che chiama la presa a terra a Doni. Dall'altra parte scambio tra Scarponi e Bonandi, con il tiro finale del numero 8 in bocca al portiere. L'incertezza della difesa da Correggese, dopo questa Traversone proveniente dalla sinistra, favorisce l'insedimento e la prontezza dei riflessi da parte di Bonandi, che trovi per tutto giusto per il 2-0, mettendo praticamente la gara in cassaforte. Intanto il violento equazione condiziona la gara di San Mauro. La San Maurese arriva nuovamente al tiro con Giannini, lui li blocca senza affanni. Quando i tristi sembra cosa fatta per gli uomini di Protti, Gulini mette a centro questo invito per Merlunghi, il quale riesce a girarsi senza inquadrare il bersaglio da posizione favorevole. La Correggese non getta mai la spugna, anzi adorni a essere su Lucati. Sulla ribattuta Landini trova il salvataggio di Gulini. Nel finale il volea ad opera di Giannini, che si perde sul fondo. Si chiude qui un match ben giocato da ambedue le squadre con la San Maurese che ottiene i primi tre punti classifica dopo la sconfitta della prima giornata con i fanfulla.